Grazie, funziona? Ringrazio molto il Sindaco e i miei colleghi per essere qua, il Presidente Gino Sabatini che dimostra ancora una volta l'attenzione verso tutti i tipi di imprese, in modo in particolare per il territorio. Siamo qua per una ragione, perché in questo agriturismo, insomma qualche tempo fa con la famiglia che gestisce questa struttura si è parlato più volte di problematiche e quindi siamo noi che dobbiamo ascoltare, Sindaco, dobbiamo imparare anche dagli agricoltori e capire quali sono i problemi e volevamo proprio qui raccontare un po' di cose fatte e di quelle richieste come in qualche modo sono state raccolte dall'amministrazione regionale, dalla Giunta e dal Presidente Acquaroli. Allora intanto abbiamo fortemente voluto caratterizzare questo PSR dal sostegno agli investimenti e alla zootecnia perché è chiaro che a differenza del PSR precedente ci sembrava utile mettere come priorità chi fa l'agricoltore in modo importante e significativo come fanno gli allevatori che in qualche modo hanno un impegno, una dedizione, un legame con il territorio molto forte e quindi mettere la priorità sulla zootecnia significa davvero dare quel segnale che molti si aspettavano. Quindi su tutte le misure c'è stata questa priorità. Oggi si è chiusa la misura 4.1 che è quella più importante con 30 milioni di disponibilità per fare gli investimenti in quei 30 milioni c'è stata la priorità per la zootecnia cosa che non era mai accaduto ma la cosa bella che mi piaceva appunto raccontare qua da Pignano è che si è chiusa la misura con tantissime tantissime richieste molto più piccole del passato quindi significa che a differenza di quello che molti criticavano e dicevano non era sbagliato togliere alcune priorità che costringevano a comprare degli attrezzi o a fare degli investimenti che molto spesso all'azienda non servivano per poter avere un punteggio. Noi abbiamo tolto quelle cose lì e abbiamo cercato di far comprare agli agricoltori quello che gli serviva e sono arrivate circa 700 domande credo 690 per un valore che ovviamente è superiore alla disponibilità finanziaria ma cercheremo con le varie economie per questo ho chiesto a Castelli di venire perché ci servono soldi e se no non ti invitavo e dobbiamo cercare di dare un segnale molto diverso come è stato per la 6.1 per i giovani anziché far fare tante domande abbiamo cercato di far fare in modo che chi facesse la domanda avesse veramente il finanziamento con tempi certi, con un po' di velocità nonostante le difficoltà anche degli istruttori che hanno ovviamente 690 domande da guardare però cercheremo di dare una risposta rapida e veloce e mi piacerebbe molto, lo ridico che tutti quelli che hanno fatto domande ovviamente quelli ammissibili che hanno superato la soglia di validazione avessero il finanziamento così come per gli accordi agro-metalli d'area io penso di poter dire al sindaco che il suo progetto verrà accolto perché cercheremo di accoglierli tutti facendo in modo che questi progetti che hanno veramente un valore di conservazione di biodiversità di valore per la tenuta del territorio perché c'è l'insieme istituzioni e privati insieme quindi un grande valore però una delle cose che io ricordo che qui il gigante che adesso non vedo non so se è in cucina adesso ma lo vedo è lontano forse e arca miseria mica t'avevo visto scusami ti chiedo scusa non t'avevo visto una delle cose che mi dicevi con molta forza è che si arriva l'acqua mi ricordo uno dei temi più forti era quello dell'acqua noi abbiamo fatto anche sulla base di quella richiesta che tu facesti con la misura 4-3 proprio un bando specifico per creare delle riserve d'acqua dei bacini idrici e io volevo lanciare questo tema per questo abbiamo fatto questo seminario e anche i tecnici della regione sono qua perché le comunanze agrarie e i comuni utilizzino quella misura che è aperta e quindi dare risposte agli allevatori che in qualche modo si aspettano di poter mantenere i loro capi al pascolo con le giuste riserve di acqua durante l'estate quindi anche su questo io l'ho chiesto di fare un incontro nei luoghi più impervi ma sicuramente dove c'è più voglia di fare agricoltura e più voglia di fare allevamento cercando di stimolare le amministrazioni gli enti ma anche le imprese stesse a partecipare a questo bando che abbiamo aperto poi voglio dire abbiamo una delle cose molto importanti per l'area montana credo che il pagamento a ettaro quest'anno di chi ha l'impresa in area montana vede un contributo di 200 euro a ettaro quindi vale circa 16 milioni di euro questo impegno e serve proprio a dare valore ulteriore a chi fa attività in queste parti dove è ancora più difficile e poi con le pratiche tradizionali locali siamo riusciti quest'anno dopo tanti anni che veniva chiesto a far inserire sul primo pilastro sulla PAC le particelle boschive che era una cosa che non era mai stata concessa e molte volte alcune particelle boschive o segni boschive venivano escluse per la prima volta c'è qui un autorevole esponente che mi ha inseguito per tutti i convegni che ho fatto da Carpegna a San Benedetto e no ma io sono contento l'abbiamo fatto qua per una ragione perché qua c'erano alcuni problemi e vorremmo dire le soluzioni le abbiamo messe in campo adesso sta anche a utilizzarle no? cioè il bando per l'acqua è fuori bisogna utilizzarlo la particelle le pratiche tradizionali locali significa tanti soldi per gli allevatori che hanno il pascolo e che sono in zone montane io lo racconto sempre una delle CPA delle commissioni politiche agricole del ministero con la conferenza Stato-Regioni io l'ho fatta col telefonino sul Monte Catria per far capire quando si parlava del primo pilastro che un conto è fare l'allevatore a Reggio Emilia e un conto è farlo in fondo a una montagna con le particelle boschive che sono proprio quelle che servono per far riproteggere gli animali d'inverno ma anche d'estate quindi bisognava capire che quelle particelle erano parte integrante dell'attività dell'allevatore quindi questa insieme ad altre misure che stiamo facendo io credo che danno delle risposte al sistema agricolo la 6-1 quella dei giovani del ricambio generazionale ha avuto tutte le domande fatte entro il termine previsto il finanziamento cosa che non era mai capitato Guido e adesso per la 4-1 tantissime domande ma la maggior parte credo verrà finanziata e se troviamo ulteriori risorse penso di poter dire che quasi tutte riusciremo a finanziarle altra cosa che non era mai successa io penso che chi ha fatto domande in passato questo lo sappia bene certo la semplificazione Presidente Sabatini non è mai abbastanza perché ci vorrebbe di essere ancora più rapidi delle domande però è pur vero che qualcosa bisogna fare sono soldi pubblici che vanno dati con un certo controllo abbiamo tolto i preventivi ogni imprenditore che doveva comprare dei mezzi doveva comprare delle strutture o costruire qualcosa doveva fare tre preventivi per ogni prodotto ecco questo l'abbiamo tolto perché era una pazzia e quindi c'è un preziario regionale che indica il valore del bene che si deve comprare quindi l'onere è nostro non è più dell'imprenditore che deve dare tre preventivi per ogni cosa già questo è stato un passaggio importante però certo si può migliorare si deve migliorare anche Telegram che abbiamo istituito e sarà vincolante per poter fare la domanda serve a creare una circolarità di informazioni una maggiore trasparenza l'imprenditore sa in tempo reale quando la pratica gli viene autorizzata gli arriva un messaggino sul telefono e credo che sia un segnale insomma anche di velocità di trasparenza quindi questa è un po' la nostra idea soprattutto sulle aree interne abbiamo quel bando che prevede ai comuni la possibilità di utilizzare anche per le strade poderali e per gli interpoderali e gli imprenditori stessi quindi serve davvero una filiera istituzionale che metta al centro della politica l'agricoltura perché io credo che io ma soprattutto il Presidente Acquaroli che peraltro è un agricoltore se vogliamo tenere vive queste aree le possiamo tenere vive soltanto se le generazioni portano avanti migliorano le attività ereditate dai padri e dai nonni per farlo serve la sostenibilità che per come la vedo io non è solo quella ambientale perché la sostenibilità la transizione è molto importante ma ci deve essere anche una sostenibilità economica perché altrimenti se non c'è redditualità queste sono attività che rischiano di scomparire quindi al centro del nostro focus c'è sostenere le imprese che vogliono crescere che vogliono andare nella direzione di migliorare l'offerta sia di prodotto che di processo produttivo aggiungo che è la cosa che mi sta più a cuore noi abbiamo fortemente voluto due leggi che abbiamo approvato in Consiglio regionale l'unanimità una sull'enoturismo e una sull'agriturismo che sono davvero significative questo perché perché vorremmo la massima diversificazione dell'attività agricola che significa maggiore reddito sostanzialmente e significa soprattutto trasformare i luoghi di produzione in luoghi di accoglienza questo è il paradigma riuscire a far diventare una visita in un'azienda agricola dove si produce vino dove si produce formaggio dove si produce oliva tenera e quindi oliva lascolana delle esperienze perché io credo che il turismo che noi possiamo intercettare nei prossimi anni sia un inturismo di tipo esperienziale che cerca autenticità ovviamente ma cerca anche la qualità prima dell'approvazione della legge sull'enoturismo lo dico perché è importante capire i passaggi perché poi ci abbiamo messo mesi per farla approvata all'unanimità quindi da tutto il Consiglio regionale approvata con l'intesa di tutte le associazioni sindacali e agricole non si poteva vendere un bicchiere di vino in una cantina questo è il paradosso cioè tutto il mondo punta sull'enoturismo per attrarre turisti noi abbiamo 14.000 tra cantine e luoghi dove si fa olio e birra 14.000 e non si poteva vendere un bicchiere di vino allora questo è il cambio noi dobbiamo riuscire a far diventare quei luoghi luoghi in cui la mescita diventa un'occasione per vivere un'esperienza per fare la vendemmia per vedere il voyage per fare quello che i nostri agricoltori sanno rendere autentico è vero ecco se riusciamo a trasformare queste 14.000 produzioni tutte le altre aziende agricole in luoghi di accoglienza io penso faremo una trasformazione enorme e anche per questo abbiamo voluto il cambiamento della legge sul agriturismo che era molto rigida inserendo degli elementi di novità importanti non so se avete avuto modo di vederla o avete avuto modo di vederla contiene dei componenti di novità importanti strutture leggere le spa l'utilizzo del glamping che è stata una battaglia anche con gli uffici l'altra sera c'era il dirigente Lopez che gestisce la misura è stato uno scontro forte perché ovviamente significa anche andare in una direzione diversa da quella che la regione ha avuto per tanti anni non si snature il luogo se io metto una tenda in un bosco o se metto una casa in un albero o se crea con un tonno una barrique una piccola spa una piccola sauna dentro la vigna si creano semplicemente delle occasioni per far vivere questi posti meravigliosi a chi viene e non cerca solo la cameretta con il letto in ferro battuto ma cerca anche di vivere una qualità perché poi se noi cerchiamo un tipo di turismo spendente che vuol fare un certo tipo di turismo emozionale vuol comprare il formaggio il vino vuol vivere delle emozioni dobbiamo cercare un tipo di turismo che cerca anche un'accoglienza di livello di qualità quantomeno autentica ok e questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati con queste due leggi che abbiamo approvato e oggi tra poco uscirà penso a giugno la misura sugli agriturismi per finanziare gli investimenti negli agriturismi quindi le cose che io credo ci siamo detti in varie riunioni in vari miei giri anche in queste zone credo che per la maggior parte le abbiamo inserite nel questo PSR poi ne avremo un altro fra un anno quindi non muore nessuno se non si è fatto in tempo per fare la domanda perché tra 12 mesi ce ne sarà un'altra c'è una grande discussione sulla PAC e concludo dicendo mentre venivo qui abbiamo fatto una lettera a tutti gli assessori regionali dell'agricoltura al ministro Cingolani per gli animali selvatici perché è inutile parlare di PSR ed agricoltura se permettiamo di considerare i cinghiali un fattore da gestire come se fosse un problema venatorio il cinghiale non è più un problema venatorio il cinghiale è un problema di sicurezza e di sostenibilità economica perché io ho visto sono andato tante volte a vedere interi campi di produzione distrutti da assembramenti che ormai non sono più animali selvatici sono antropizzati sono di fatto un allevamento fatto a discapito degli agricoltori ecco però e voglio essere anche molto chiaro perché ieri sera ci hanno su questo ad Arcevi ha fatto diverse domande oggi si è scatenata una grande aspettativa perché il governo ha proposto sembrerebbe proporre di aprire la caccia imbraccata tutto l'anno ma già oggi pomeriggio è arrivata la difida di tutte le associazioni ambientaliste che dicono addirittura di fermare la caccia di chiuderla per evitare la peste suina cioè siamo al paradosso che tutti i veterinari dicono bisogna abbassare il veicolo che trasmette la peste suina che sono i cinghiali e rischia peraltro di distruggere tutta la suinicultura su cui stiamo facendo un lavoro enorme di ripresa di rilancio di questo settore tant'è che la giunta ha approvato l'AOP per la suinicultura stiamo facendo gli accordi di filiera con Beretta e con altri produttori per far tornare una filiera marchigiana della suinicultura abbiamo fatto acquistare diciamo abbiamo favorito la conservazione della razza suina marchigiana del suino della marca che diventerà un'eccellenza per chi vorrà portare avanti quella genetica non possiamo far distruggere tutto da una visione ecologista di facciata o da un ambientalismo da salotto perché nell'ultima versione del decreto sulla peste suina c'era scritto che gli animali l'ungulato andava gestito con metodi ecosostenibili su questo dobbiamo capirci i cinghiali non sono un animale che uno può gestire in modo ecosostenibile a meno che uno non abbia in mente di castrarli mentre corrono quindi c'è bisogno di fare delle cose che non siano ridicole e che chi le faccia abbia presente come è fatta la campagna perché se chi le fa vive i parioli prende l'auto di servizio arriva a Montecitorio e torna ai parioli fa fatica a capire come è fatto gli ungulati noi abbiamo una presenza ormai fuori controllo degli ungulati distruggono l'agricoltura e permettetemi generano anche un problema di sicurezza sulle strade molto serio perché non c'è più come era in passato una famiglia tra virgolette soprattutto la femmina con i cuccioli ma ci sono branchi di 20-30 animali che quando arrivano in un campo coltivato distruggono tutto quindi noi su questo cosa possiamo fare? Abbiamo fatto un protocollo di intesa con i comuni con la polizia provinciale con i carabinieri forestali abbiamo fatto presente al ministro che ci serve un'attività molto più forte sulla selezione e abbiamo creato una delibera qualche tempo fa che dà la possibilità all'agricoltore o al suo delegato di fare abbattimenti in autodifesa 24 ore al giorno anche con l'uso dei visori notturni nella sua azienda ovviamente a difesa però bisogna facilitarle queste cose bisogna che anche i comuni attraverso gli ambiti territoriali di caccia ci diano una mano a rendere poi effettive queste misure perché noi possiamo fare una delibera ma se poi i territori non le applicano si fa fatica a renderle concrete ma io credo lo dico sinceramente visti i numeri degli abbattimenti quest'anno sono stati abbattuti 23.000 capi di cinghiale questi 23.000 capi è il massimo numero raggiunto nella storia delle marche ma il numero questo numero lo hanno prodotto le cacce imbraccata quindi noi dobbiamo riuscire a poter allungare quella stagione in modo serio non per far divertire qualcuno attenzione io non ho in testa di sfruttare questo problema per farlo diventare un gioco io ho in testa che dobbiamo risolvere definitivamente questo problema che danneggia l'agricoltura e rende inutile se non ridicolo qualunque misura di PSR però per farlo non serve una visione ideologica serve una visione concreta pragmatica di chi sa come funziona questo mondo e cerca di regolare una stortura come quella degli ungolati che diciamoci la verità è sfuggita di mano a tutti anche a chi l'ha creata probabilmente quindi su questo serve una posizione netta non uno scontro ideologico non è un mondo venatorio contro il mondo ambientalista ma gli agricoltori su questo si devono anche far sentire e devono dire che oggi servono alle regioni degli strumenti normativi veri per affrontare questo problema anche perché la peste suina davvero rappresenta un rischio che non ha precedenti nella storia veterinaria del paese quindi io concludo dicendo la nostra idea è di partecipare ai due grandi bandi del recovery fund che sono per l'enoturismo e per il biologico su queste due grandi driver vorremmo costruire una comunicazione un marketing molto forte coinvolgendo le aziende agricole mettendole al centro la camera di commercio ci ha aiutato anche nella costruzione del primo più grande distretto biologico italiano l'abbiamo fatto prima di tutto in Italia ieri sono stati approvati i criteri uscirà il bando a presto e quindi quando uscirà il bando noi presenteremo un progetto per far parlare finalmente delle marche in chiave agricola così come abbiamo fatto parlare delle marche in chiave agricola a Dubai nella settimana dedicata all'agricoltura avremmo potuto scegliere altri temi abbiamo volutamente scelto l'agricoltura perché crediamo che sia il vero biglietto da visita di questa regione gli agricoltori sono un settore in grande crescita la vinicoltura è in grande crescita abbiamo bisogno di far crescere anche la razza marchigiana come prodotto di eccellenza evitando che questa non venga riconosciuta dal mercato e poi tutto quello che ruota intorno a un ambiente e ad un sistema agricolo che è di grande qualità e che tiene al primo posto la salute e il benessere quindi io vi ringrazio per la vostra disponibilità per essere qua ascoltiamo Bisogni e Fermanelli e siamo qua anche per le domande o per eventuali chiarimenti grazie